Quello che vedo nell'oltre e dall'oltre Mirella Brunori Franco Grigiotti Si stabilizza il rapporto Il modo usato da Mirella per entrare in comunione con il mio spirito avveniva in pari modo sia per comunicazioni dirette che per amplessi amorosi per portarmi o avviarmi in luoghi dove lei si trova sarebbe ora troppo lungo spiegare gli accaduti perciò vi rimando alla lettura dei libri Parliamo ora degli amplessi amorosi Mirella ha sempre asserito essere questi veri e propri rapporti d'amore paragonabili in tutto e per tutto ai rapporti carnali che avevamo quando anche lei era nel suo corpo vi dirò poi come avvenivano e con quanta facilità a un certo punto anche spinto da lei presi a fare il pendolino uno strumento di comunicazione che però dava soltanto la conferma di ciò che lei mi aveva trasmesso telepaticamente durante queste sedute spesso spinta dal desiderio di possedermi per amarmi mi faceva distendere sul divano e subito entrava nel mio corpo avvenendo così all'istante la fusione dei nostri spiriti in un amplesso d'amore che va ben oltre gli amplessi carnali la stessa cosa avveniva quando ero io a chiederlo avendone desiderio altre volte come la prima usava questo mezzo in maniera improvvisa approfittando appunto delle mie meditazioni una volta e fu l'unica purtroppo lei è entrata in me prendendo possesso delle mie corde vocali lo ha fatto mentre meditavo sul purgatorio le ha adattate alla sua voce tanto che queste mi tiravano in modo abnorme posso dire che in questa circostanza di fatto venivo ad agire da medium cosciente usava dunque il mio corpo a suo piacimento e mi parlava con la sua voce a voce alta quando poi io rispondevo e pensavo con il mio cervello ero però costretto a parlare con il suo timbro di voce ormai per nulla spaventato la cosa ci divertiva e dal tempo stesso provavamo entrambi una gioia inimmaginabile consapevoli di essere fusi insieme ma di questa fusione Mirella ne ha sempre parlato dicendo che noi ormai siamo una cosa sola ma può essere più meraviglioso in seguito Po si è portata di mano un registratore con la speranza che si potesse ripetere tale fenomeno che in termine tecnico si chiama trasfigurazione parziale ma purtroppo come ho già detto all'inizio la cosa non si ripetè più Mia riflessione Non è che Mirella non volesse ripetere l'esperienza ma perché non si creavano le condizioni favorevoli altro motivo poi direi il più importante i fatti da me sopra riportati sono più vicini alla terra che al cielo perché Mirella della terra ne sentiva l'attrazione ora dopo nove anni tutto è cambiato il rapporto è diventato totalmente spirituale al quale peraltro faccio fatica ad adeguarmi comunque anche di questa mia maturazione ne parlo ampiamente nel secondo libro ciò che sopra ho scritto come ripeto è solo un accenno di ciò che nei due libri è riportato con dovizia di particolari di ciò che sopra